Amici di investire.biz, buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con Turbo Daily, l'appuntamento con le strategie operative messe in campo con i certificati Turbo di BEMPE Paribas. Il comparto che andiamo a vedere oggi è il comparto energetico, il comparto oil e questo prendendo spunto dal report che è stato rilasciato ieri dagli analisti di Goldman Sachs in cui hanno messo sotto osservazione il settore energetico, un settore energetico da loro valutato decisamente positivo alla luce di quelli che sono stati. Tutte le iniziative messe in campo tra il 2014 e il 2016 per diversificare l'approvvigionamento delle fonti, diversificare le attività e migliorare così la renditività e la solidità del comparto. All'interno di questo comparto c'è un titolo che è appunto Eni che rappresenta uno dei titoli preferiti del settore energetico da parte di Goldman Sachs. Questo perché la major italiana si trova ad avere un business sempre più ad alto rendimento e poi è di Eni particolarmente apprezzata anche la politica di dividendi combinata con il programma di buyback, con il programma di riacquisto delle azioni. In quest'ottica Goldman Sachs ha una raccomandazione sul can a sei zampe di buy, quindi comprare, con un prezzo obiettivo tissato a 18 euro, quindi oltre 50 punti percentuali rispetto ai livelli attuali. Ma andiamo a vedere quello che è il grafico di Eni, un grafico che a partire dal giugno 2022 ha registrato una netta decelerazione che è andata, che ha portato i corsi a confrontarsi con i supporti fissati in area 10,6 euro. Da qui è partito un andamento laterale compreso con i 12,23 euro. Recentemente, dopo il nuovo test del livello di supporto, abbiamo registrato una nuova accelerazione in sciata, un lato del recente andamento del Brent che ha iniziato il mese di ottobre in spoiler e oggi abbiamo l'importantissimo appuntamento con l'OPEC Plus che potrebbe anche ridurre l'output di un milione di barili e quindi dare nuova verba alle quotazioni del greggio. Tanto da portare il titolo Eni tra lunedì e martedì a registrare un piccolo gap rialzista tra 11,34 e 11,37 euro. Oggi stiamo assistendo ad un breve ritracciamento dei corsi che potremmo sfruttare per andare long sul titolo con un ingresso a 11,4 euro, quindi di poco sotto ai livelli attuali. Lo stop loss fissato a 10,6 euro, quindi al di sotto di questo livello di supporto e un target a 12,1 euro. Per far questo utilizzeremo un Turbo Certificate di BNP Paribas, quindi cerchiamo sul sito di BNP Paribas, investimenti.bnpparibas.it dove ci ricordano l'importante appuntamento con investimenti in tour, seminari esclusivi il prossimo e si terrà a Milano il 12 ottobre. Selezioniamo Turbo e Mini Future dal nostro menu a tendina, da qui il comparto azionario ed Eni. Abbiamo già scelto questo certificato, è un Turbo Unlimited Long sulle azioni Eni, con codice AISIN NLBNPIT14ROMA4, presenta una leva di 5,1 volte, un livello di strike, un knockout a 9,69, quindi decisamente al di sotto di quello che è il nostro livello di stop loss e attualmente il sottostante si trova a 15 punti percentuali al di sopra di questo livello. Ci richiamo sulla nostra piattaforma di investimento, dove abbiamo già selezionato questo titolo, ne acquisteremo circa 400, non circa, acquisteremo 450 pezzi per un controvalore di circa 1000 euro, che appunto con una leva di 5 si tradurrà con un investimento sul sottostante di circa 5000 euro. Acquisteremo a livelli leggermente inferiori a quelli che sono i livelli attuali e quindi possiamo ricapitolare questa operazione. Abbiamo detto un investimento long sulle azioni Eni, il certificato scelto è un Turbo Certificate Unlimited di BNP Paribas con codice AISIN NLBNPIT, 1,4 Roma Quadro 4, entreremo a 11,4 euro, lo stop loss è fissato a 10,6 euro e il target per un investimento complessivo di oltre 6 punti percentuali, per quanto è fatto leva, ne diventerebbero 30, di 12,1 euro. Perfetto, quindi anche per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Buona giornata.